ciao ragazzi e ragazze benvenuti e fin tornati in questo buonissimo video oggi come sentite dal tono di voce che sto usando porterò un video smr allora nel video smr porterò un po' di tappi giocherò un po' con slime o scusate spero sentite qualcosa perchè non so se i suoni si sentono bene perchè non ho un microfono molto funzionale questo è il tappi questo è il tappi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Questa scatola, ragazzi, è piena di creazioni. Guardate. la sua perla. La scatola, la scatola, la scatola, se fossero tutti i fatti, che è una scatola. Anche non ho fatto scegliere, non ho fatto cattola, ma sono scatola, e quindi non ho quasi mai tempo di pubblicare il video e di registrarli e quindi qua ragazzi c'è ancora uno specchietto vi faccio vedere la luce questo suono qua è uno dei miei preferiti quindi mi sa spazzola molto perché lo specchietto mi sa spazzola come chi vuole poi è anche piccolina quindi è come da ballarsi in borsa le portachiavi così questo fa stratico fatto io quanto odio quando non riesco ad aprire lo scotch perché non trovo l'apertura perché c'è una vita di aprile ecco l'apertura non ecco 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti